però c'è molto più piccolo io mangio questo questo è il cartellante o io vado grazie questo è il cartellante ma è il cartellante che tipo di cartellante io mangio la pasta non c'è il cartellante 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 che tipo di cartellante banana pesante Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.